Vi presentiamo un storico segnato durante i mondiali del 1994, durante la partita Italia-Spanie. Un minuto signori, passa la palla a Roberto Maggio, il portiere va verso di lui! GOOOOOOOL!!! Forza Italia! Forza Italia! GOOOOOOOL!!! C هنا, forza Italia,ivalia! Forza Italia, some like us! GOOOOOOOL!!!! Eibles, welcome to a navola andrance! Sento questo gol perché ci regala tante emozioni e mostra la bravura di uno dei più grandi calciatori italiani. Italiani!